Open Day per il liceo La Farina che mira a far conoscere la propria offerta formativa. Sì, un'iniziativa che ha preso il collegio dei docenti e in collaborazione stavolta, devo dire, con gli studenti che pur essendo in occupazione hanno deciso di interrompere l'occupazione per fare da guida ai loro giovani compagni dell'ultima classe della scuola secondaria di primo grado e in delle aule monotematiche dove si tratta di problemi relativi al laboratorio di archeologia o anche, posso dire, di attività sportive o ancora con la presenza di docenti che illustrano il piano dell'offerta formativa, stiamo assistendo a una nuova giornata veramente bella. Tante iniziative, tanti momenti in questa giornata articolati in una maniera molto particolare. Perché oggi pomeriggio noi avremo anche la premiazione del primo torneo interscolastico di calcio che si conclude stamattina tra il liceo La Farina e l'istituto Boer Verona Trento, qui adiacente, ci sarà la premiazione nel pomeriggio. I ragazzini hanno tutti dei gadget molto graziosi, delle spillette che rappresenta La Farina con una vignetta, c'è un antico romano che chiede cuovadis e poi c'è scritto sotto al liceo La Farina. Ma ancora ci sono questi momenti unitivi, umani, anche conviviali, perché i ragazzi hanno pure preparato le ottime torte ad offrire ai loro compagni. Quando si entra La Farina si entra in un ambiente veramente accogliente che fa sì che le iscrizioni in questi ultimi anni siano molto aumentate. E noi ci auguriamo che la linea seguita negli ultimi due anni possa proseguire. È stato ideato anche un calendario molto particolare per l'iniziativa. Il calendario è molto grazioso perché è un calendario che non abbiamo voluto dare spazio a tutte le attività sportive. In quanto di solito si pensa al liceo classico come una scuola un po' stantia dove ci sono le lingue antiche, latina e greco prioritarie. Mentre da noi si dà molto spazio anche alle attività sportive grazie a due validi insegnanti, la professoressa Chirelli e la professoressa Bellizzeri, che insieme ad altre quattro insegnanti del liceo Basile hanno dato vita a questo calendario che noi offriamo a tutti i visitatori di oggi. Che tipo di risposta vi attendete da iniziative di questo genere? Ma noi ci attendiamo intanto un gran numero di visitatori che si rendano conto personalmente che quello che noi andiamo dicendo non è pubblicità soltanto ma è realtà. E poi ci auguriamo che ci sia un incremento di iscrizioni tali da consentirci di mantenere sempre stabile l'organico e di dare ai ragazzi un punto di riferimento importante, ai ragazzi e alle loro famiglie perché le famiglie vogliono sapere a chi affidare i loro figli come educatori validi, non soltanto come docenti di latino, greco, italiano, ma vogliono che ci sia una formazione adeguata.